Oggi vi faccio vedere un modello veramente eccezionale. Arriva in un foderino di tessuto molto gioviale, con disegni giapponesi. Il modello è della Mekusta, ovvero un'azienda che riesce a legare l'antica tradizione giapponese dell'acciaio con nuove tecnologie, ottenendo dei risultati veramente spettacolari. L'acciaio del lama è giapponese, in questo caso sia la manicatura che la lama è in Damasco, a 33 stati. Questo è il modello TAKE, apribile ad una mano. Veramente spettacolare. Le dimensioni sono comode anche per l'utilizzo giornaliero. E' un linear lock, molto ben fatto. L'apertura è molto veloce. Regolabile comunque.